Abbiamo legittimato la vittoria e alla luce dei risultati favorevoli a noi che sono venuti allunghiamo rispetto alle inseguitrici. Una bella partita nel quale ha vinto il gruppo, ha vinto il collettivo, non a caso Gallo dal primo minuto ha giocato oggi, non aveva mai giocato e è andato in gol, De Luca non aveva mai segnato, è entrato e ha segnato, questo perché tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile del gruppo e il mister Montalbana a seconda delle partite, a seconda delle condizioni di forma fa ruotare l'organico. Ci godiamo la vittoria fino a martedì, da martedì cominceremo a preparare la partita contro l'Alcamo, anche questa sarà una partita tosta, ma io ritengo che se la squadra gioca così, con questo pubblico straordinario che è ritornato a gremire l'esseneto, penso che è difficile per le altre squadre che vengono qua.